L'attenzione degli agenti della squadra mobile di Cremona e del servizio centrale operativo da qualche tempo si concentra anche su due partite della Lazio del campionato 2010-2011, ovvero Lecce-Lazio finita 2-4 e Lazio-Genova finita 4-2. A parlarne per la prima volta fu il pentito Carlo Gervasoni, ex a Piacenza, nel suo interrogatorio dopo l'arresto del 27 dicembre scorso. Gervasoni ne ha riparlato e sembra ancora più nel dettaglio il 12 marzo scorso, quando è nuovamente comparso davanti al procuratore Roberto Di Martino, in un interrogatorio il cui contenuto è stato secretato. Nel frattempo è giunta agli inquirenti cremonesi la rogatoria ungherese con la trascrizione dell'interrogatorio di Gabro Orvat, calciatore magiaro già arrestato in Ungheria, per vicende simili. È infatti Orvat a parlare in particolare di Lecce-Lazio come di una partita combinata. E così gli investigatori, con l'analisi del traffico telefonico delle persone chiamate in causa, accertamenti bancari e altre indagini tecniche, sembrano aver trovato delle conferme di massima al racconto dei protagonisti. Dati che potrebbero portare ad una significativa svolta e sarebbe la terza dell'inchiesta. Sviluppi all'indagine potrebbero giungere anche in seguito al prossimo arrivo in Italia di altri due presunti componenti del gruppo degli scommettitori degli Zingari, colpiti da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta cremonese. Si tratta di Admir Sulic e Dino Lalic, sloveni, tuttora latitanti. Una cosa è comunque certa, altri clamorosi sviluppi sono attesi nei prossimi giorni. La vicenda calcio scommesse continua.